Anche questo video è sulla narrativa, invece stavolta sulla differenza tra fantascienza e fantastico. Infatti, fantascienza e fantastico vengono trattate come due scatole separate. Una cosa o è qui, o è qui, e a volte sono pochissime storie che sono un po' intermedie, che sono un po' uno e un po' l'altro. Genomicamente vengono trattate come due cose separate. Per esempio, qui ci sono chiaramente draghi, crifoni, falchi giganti, elfi, allora è un fantasy. Qui ci sono astronavi, alieni, allora è un fantascienza. Qui ci sono i draghi e altre creature, allora è un fantasy. Io sinceramente questa divisione in due scatole precise non sono d'accordo, perché ci sono alcune fantascienze che si comportano più come un fantasy. Che sembra quasi che ci sia una specie di linea, un continuum. Non sono due scatole, ma sono un'unica grande scatola, molto lunga. Perché, sì, storie come Berserker non hanno niente di fantascienza, è tutto puramente fantasy, certo. Ma, storie come Tischiai, dove la tecnologia è soltanto un mezzo per raggiungere un mondo fantastico, secondo me sono più fantasy. Perché, una volta che il protagonista ha trovato l'astronave per tornare a casa sua, alla fine del racconto, alla fine di questa saga, è fatta. Non deve più preoccuparsi di nulla, questa astronave è fantastica, è permessa di partire dalla superficie del pianeta alieno e poi tornare al suo pianeta natale a chissà quanti anni di luci di distanza. Non c'è una... La complessità del viaggio spaziale è ridotta al minimo. Per esempio, mi viene in mente due anime, che sono entrambi fantascienza, ma sono molto diversi. Planetes e Lost in Space e Yuri Lost in Space Non mi ricordo come si chiama adesso che, appunto, Planetes è ambientato in un futuro prossimo dove l'esplorazione spaziale è ancora limitata al sistema solare anzi, non sono riusciti a raggiungere Giove in questo universo e invece Lost in Space hanno già aggiunto il viaggio interstellare e la differenza è potentissima perché in Lost in Space l'unica astronave di serve solo un'astronave per partire dalla superficie di un pianeta fare i viaggi interstellare e poi ratterrà di nuovo sulla superficie di un altopianeta e questo è assolutamente impossibile chiunque ci sia interessato all'esplorazione spaziale sa che è molto più complicato ci servono molte più cose per fare un viaggio del genere per esempio è classica l'immagine che c'è tutto il razzo della stazione di lancia così e nello spazio arriva soltanto la cima arriva soltanto la capsula in testa tutto questo sono motori e razzi che servono per fare un the orbit per andare in orbita e quindi molto spesso mi sembra che sono dei racconti di fantascienza che sono fantasy perché la tecnologia è sviluppata dal punto che non c'è più un limite non c'è tutto semplificato quindi è un pochino questo il tema di questo brainstorm che secondo me fantascienza e fantasy non sono due scelte separate ma sono tutto più o meno continuum e poi ovviamente ci sono i racconti che giocano molto sul mescolare i due generi Die Dark per esempio è un racconto di fantascienza che prende molti spunti dal fantasy e appunto sarebbe quella cosa che è invidico tra i due scatoloni ok per se vedete tutto Grazie a tutti